Dal confine meridionale dell'Abruzzo ai Campi Flegrei ci sono circa 130 km di distanza, percorribili in poco meno di due ore. Ma non è solo la vicinanza geografica a facilitare l'empatia dell'Abruzzo con la Campania, quanto il ricordo di quel terribile e recente passato sismico che la nostra regione ha vissuto in prima persona con feriti ancora evidenti. E' anche per questo che il bradisismo che da mesi sta interessando i Campi Flegrei preoccupano un poco. Ma quali sono i possibili scenari futuri e quale è il coinvolgimento dell'Abruzzo nell'ottica di un'eventuale eruzione? Lo abbiamo chiesto al professor Mario Rainone, docente di geologia applicata all'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, ospite del direttore Carmine Perantuono negli studi televisivi di Rete 8 per l'approfondimento giornalistico del fatto. E' iniziata di nuovo una fase parossistica di quei fenomeni che hanno sempre caratterizzato e contraddistinto quell'area. Nell'82-84 i tassi di sollevamento, perché il bradisismo può essere sia in positivo che in negativo, erano estremamente superiori a quelli attuali ed era anche superiore il numero di eventi sismici. Indubbiamente è un fenomeno che va attentamente monitorato, c'è un'elevata condizione di rischio che va gestita attraverso un monitoraggio continuo che si sta facendo. Sotto il profilo geochimico non ci sono dei parametri che sono particolarmente indicativi di avvicinarsi di un fenomeno eruttivo. Indubbiamente in questo momento sono soltanto i fluidi che stanno nel sottosuolo che causano questo sollevamento della superficie topografica. L'Abruzzo come è coinvolto in questo scenario? Ci sono dei rischi anche per la nostra popolazione? Questo è l'unico rischio che forse l'Abruzzo non ha, nel senso che il rischio vulcanico non è presente sul nostro territorio. Ne abbiamo tanti altri di rischi geologici, frane, terremoti e sondazioni. Stiamo raccontando questo fenomeno più che altro per una consapevolezza che in un territorio come quello italiano si deve convivere con dei fenomeni naturali che hanno un elemento di pericolosità. Questa pericolosità interagendo con un ambiente costruito produce delle condizioni di rischio. In altre parole diciamo che l'antropizzazione di zone a rischio geologico comporta anche una sorta di accettazione del rischio. Dunque io sono rimasto favorevolmente colpito da le dichiarazioni del ministro Musumeci quando ha detto ma la gente sapeva dove andava a comprare casa perché mi sembra che ci sia stato anche uno sviluppo urbanistico notevole in quelle aree negli ultimi 20-30 anni. Ecco questo dovrebbe farci un po' ragionare e maturare una consapevolezza che il consenso geologico, io lo chiamo così, è importante perché è la prima condizione per vivere in sicurezza. Che probabilità ci sono che quello che sta accadendo oggi possa trasformarsi in un'eruzione catastrofica? Ci dobbiamo attenere ai dati che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in particolare l'Osservatorio Vesuviano ci sta fornendo le probabilità che si possa verificare un evento catastrofico come ad esempio quello che si verificò 39 mila anni fa e circa 15 mila anni fa sono estremamente basse e comunque c'è la possibilità di capire se queste probabilità iniziano ad aumentare. Un'eruzione porterebbe problemi anche in Abruzzo? I record geologici che abbiamo non hanno traccia importante in Abruzzo, poi alcuni cineriti arrivano con le polveri, con il vento, ma sostanzialmente di effetti devastanti sul territorio no.